musica 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 ahia ma che mi sta frantumando le eh perchè sta continuando proprio i mostri qua continuano ad arrivare e mi frantumando le nocciole oh eh beh ci sarebbe un uovo da questa parte si ah guarda qua è tornata mica praticamente raga ho fatto buchi su buchi per salvare a chino ah beh oh almeno fai qualcosa ah stai zitta di maffanculo Argo maffanculo il uovo sta sotto Argo non è qua è sotto no ce ne è uno no se giri la mappa ce ne è uno ce ne abbiamo uno dritto qua eh ma è bello bello sotto però eh beh intanto sono quattro dobbiamo per forza prenderlo eh per forza dove cazzo è andato Argo mi vedi sulla minimappa eh ciccio sono in rosso vai ciccio allora uno è qua sotto si uno è il è la gifond eh da affitto i colpi eh ma io c'ho ancora lancia granate comunque come arma eh ecco ecco c'è un coso rosso da prendere lì adesso ho presato si ma quello è oro quello è oro eh ho capito tu intanto vai a prendere qualcosa cerco io allora ah si aspetta ah ok posso metterla qua attento spostati da lì eh posto la torretta la metto qua mamma mia e ora ci ricarichiamo tutto ok allora devo scendere giù ok io scendo ancora giù eh allora scendo ancora di qua non mi che mi fa un bugfaro mi farò male cane ma deve essere qui lo ah porca miccia arancioso aia chi è che è il Sprantuma le nocciole ok io ho trovato altro oro ok qui allora tre ma è che un Sprantuma tre oh eccolo qui l'uovo come si fa a chiamare? chi? chiamare chi? eh il robot ah ma ti conviene qua cioè almeno sei difeso eh il problema è che sono sotto e non riesco a salire nocciole 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 porca puttana al miccio non so come fare a salire con l'uovo in mano e poi ci sono pure gli stronzi che mi rompono i maroni qua basta cosa cazzo ci mi è finita? eh agob prendere l'uovo si può scendere aspetta eh no 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 non è qua si ma tu puoi salire su o no? no eccomi eccomi no non la puoi lanciare qua? non la puoi lanciare? si lanciarla si però non la lancia troppo in alto no ma riesci ad andare su quella? ah ok allora allora vieni su si postati a loro che faccio una qua ah 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 non ci fossi io porca puttana ma se ti ho salvato il culo taci nano ma è il minimo vecchio il minimo si ma adesso lo faccio aspetta spostati madonna palestitoio ok e tre platform piattaforma piattaforma aiuto cago ma più 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 comode no ma chi è che mi lancia il culo vaffan cubo microbo maledetto che comode se tu non riesci a salire probabilmente posso far pinta poi ancora ora ora spostati eh si andata qua c'è stato i coglioni wow oh e che è e basta oh mi vieni qua oh eccolo qui finalmente oh bene vediamo dov'è l'ultimo uovo no che ultimo uovo si l'ultimo uovo si trova si trova ah la è davanti vado a prenderlo io prendo l'oro che c'è qua intanto io sono giallo io sono giallo si si ok ne so magari sei di un altro colore beh se sei fermo quando ti guardi vuol dire che c'era allora di qua l'uomo dove cazzo è? è giù è sopra ma stai sento muto gare ho trovato ho trovato uno smeralda amico bravo ma che cazzo è ah è da te da te devo venire fermati ago fermati dove sei si ho trovato una giada l'ho provata no no tu sei vicino sei vicino l'uovo sei vicino l'uovo sono qua portami dove eri che sei vicino l'uovo ho visto ah qua sei qua eri qua andiamo qua qua ok esatto si si è lì è vicino più o meno l'uovo allora fammi vedere dove stai guardando tu là esatto c'è sta merda di merda ci deve essere l'uovo fammi vedere si è qua sotto eccolo eccolo preso oh oh c'è la mamma che si è incazzata si e tu c'è la mammina che è arrabbiata intanto mettiamo l'uovo a posto metto la mia esca così l'uovo all'uovo lo esca io direi di andarcene via pensavo che volessi prendere un po' di oro ancora abbiamo sfidato la fortuna troppo io direi di andarcene ma no dai prendiamo per un po' di oro ma guarda che sta arrivando la mamma è incazzata è morta la mamma è incazzata però male va ma non è incazzata ma non è incazzata allora in giù secondo me beh possiamo tornare giù c'era una cosa c'è un sacco di roba però tutte quante intorno al cerca di non cerca di non cliccare quel tastino di merda capi perché ti piace quando legge la potenza immensa di grigio minchia il salvatore vabbè perché andiamo a giù sì ma che ti ho fatto anch'io il salvatore il salvatore ah guarda guarda lì eh mica fai lì mamma mia mamma mia cos'è quello cos'è quello di ciò mi so cos'è il co cosa stai facendo sto cercando di passare sono qua sono là eh oh quello la cos'è rosso quello che si muove quello che si muove coyota aspetta aspetta prendiamo prendiamo il metallo prima lei che è che mi mozzi cari nocciole c'è sempre c'è sempre qualcosa verde sotto che ti qua ce n'è uno qua access provider dobbiamo raccogliere questi fiori bianchi diciamo si lo so ecco ne mancano ancora un po' eh bene ne mancano pochi dai ne mancano tanti intanto qui c'è dell'oro ce n'è anche lì la posso fare una piattatura se lo vuoi il tipo lo mando qua il tipo lo mando qua come here come here come here aspetta qua lo voglia voglia anche una torretta qua non è giusto vado a che mi aspetta inizia oh qui c'è un buco ok perché mi aspetta ci manca solo una navetta spaziale Ah qua ci vuoi cercare la vita Eh cazzè il suo materiale Ah non lo fa prendere Però ben utile Allora di qua c'è un tunnel Qui si può scavare sotto per finire giù Ah buono Vabbè Ah si Ah sotto c'è un materiale Ti dico la cosa gialla triangolone Però intanto vai avanti di qua Per dritto per dritto Si Che non è continuato qua? Che sei su Sari su Ago Eh ho sbagliato E qui sopra Qui dove sono io? Il cazzo si è andato tu Ah l'ho preso là sotto Ok qua c'è una Un'altra cosa Preso Io ne ho un'altra Un altro fiore qui Un altro fiore qui Perché non me li conta? Ah forse bisogna mettere dentro Eh si Ok Ancora tre quindi Ancora tre fiori Ah ce ne ho trovati io Altri due Wow perfetto Ancora uno allora Ah forse il puntino giallo È dove arriva Sai è vero che le cose Sono procedurali queste Beh è vero che le cose Beh è vero che le cose Beh è vero che le cose No buono Eh andiamo avanti Tanto vabbè Tanto non c'è più nessuno Che ci rompa le palle Eh però quando poi Ci saranno Ah qua si è ritorno Dove eravamo prima Si Allora Oh se la torre in Italia No facciamo così Invece di scappare Le gambe levate Ah 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 c'è il mostro qua C'è un altro C'è la mia torretta Che se lo sta Lo sta colpendo Sì infatti sento Allora Eh sopra Vabbè ma c'è una cosa amiccio Ci conviene Ah eccola qua Occhio dietro 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 Vabbè ma eh Vabbè ma c'è una C'è una mia No ci conviene adesso Se vogliamo andare via E risalire un po' Perché non so Come ce la mette la C'è la corsa Ma prima di cliccare Ha meglio tornare a sotto Dai vai Sinceramente Vai vai Ah vabbè qua ho fatto Le nostre piattaforme Infatti saliamo su Con le piattaforme Nel video E se te lo stai Che Ecco Mi stai E come Mi spaccano Ho Voi O Non Puoi andare In'su Con Le Privelle Stai 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 Si Oh Eccolo qua Se vuoi altri fornimenti Ce l'abbiamo No no è finita Cazzo Eh sali Jack Sali mannaggia sa niente Oh qua 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 Ce l'abbiamo Chiamiamo il tipo Vediamo dove dov'è E prepariamoci Perchè arriveranno Adesso Depositiamo se abbiamo roba No Ok Capsula da sbarco in arrivo Adesso vediamo dove la mette Eh Non mi fa rispondere Qua sopra Qua sopra Qua sopra Non è che No L'ha messo sotto A 50 metri Ah qua dai Troppo Proteggi Troppo Troppo Proteggi Minchia Ci penso io con un colpo di lancia Eccola qua Oh! Ah no, questi sono veri Perfetto Ah, ecco perchè non si apre, perchè fino ad arrivare quello Deve arrivare... Il robottino Deve arrivare Ok, andiamo Ok, andiamo Io tocco le pelle qua Allora, mi piace o no? Bello, bello E questa è completata Minchia ragazzi Questa è stata davvero bella Bella tosta, mi è piaciuta moltissimo Vediamo i nostri nai Ho scelto il gioco giusto Sì, è bellissimo, bravo Aguirre Uh, livello 4 1.929 crediti e 7.745 di punti esperienza Bene bene bene, guarda qua Con 50% di bonus pericolo totale Vabbè, quello è il livello medio Vabbè, però abbiamo fatto anche qualche cosa in più Perchè abbiamo perso la missione secondaria Ottimo ragazzi Sì, abbiamo trovato un errore già Nel dismo, bulbo d'orgo Cono di lievito Infatti Non c'è da amica, vabbè Tanto lo è Bene ragazzi Con questo io vi saluto Grazie per aver visualizzato questo video Grazie a Tachino per essere stato qui con me In questa missioncina E ci vediamo alla prossima Ciao ciao Passa al lato scuro della forza Iscrivendoti al canale di JackWhite28